L'atmosfera di un'epoca, la creatività e l'inquietudine di un artista che attraverso le sue opere guardava con fiducia al futuro e alla modernità. Marcello Dudovici, 90 anni dopo, è di nuovo in mostra a Palazzo Aeronautica a Roma. 200 capolavori che hanno fatto la storia della reclama italiana, un viaggio ideale lungo le sale storiche di Palazzo Aeronautica alla scoperta di luoghi e pulsioni proprie di quegli anni. Nel 1931, esattamente 90 anni fa, Marcello Dudovici entra a Palazzo Aeronautica e si rivela attraverso la sua arte. Esattamente dopo 90 anni, quella sua arte è rivelata attraverso i recenti restauri che non solo hanno reso possibile fruirne la materia, ma hanno reso possibile ricostituire l'uomo, l'artista e la materia della sua arte. Un Dudovici inedito che, attraverso i volti femminili, l'eleganza degli oggetti e lo stile accattivante, svelava al mondo un paese che puntava al progresso dopo la crisi del 1929. Testimone del tempo e dell'innovazione tecnologica, Dudovici rappresenta la ripresa e la rinascita. Gli aviatori, le imprese dell'aria, le grandi trasvolate e i trasporti aerei sono da scrivere, da raccontare, da rappresentare. L'aeronautica militare ha creduto moltissimo in questa iniziativa. Oggi, finalmente, la possiamo godere in tutto il suo splendore e tutta la sua magnificenza. Il pubblico numeroso che sta visitando la mostra è un motivo di soddisfazione di questo percorso museale. È un Dudovici sicuramente interessante da rivedere e noi come aeronautica siamo un motivo di soddisfazione di riuscire in questo novantesimo a dare al pubblico questa importante iniziativa culturale. Una mostra che è un segno di rinascita nei giorni dell'emergenza sanitaria per riscoprire l'artista triestino che ha fatto della proiezione della dinamica il cuore pulsante della sua produzione.